Quei pagamenti non sono dovuti al consorzio di bonifica 11 di Messina poiché non sussiste la prova che si siano concretizzati i miglioramenti ai terreni localizzati nel territorio di Militello Rosmarino e Alcalalifusi. Questo all'esito dei ricorsi presentati da 50 contribuenti, rappresentati dall'avvocato Antonino Araca e discussi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina. Nel primo caso si è dibattuto su sette cartelle relative al 2013 riguardanti un contributo richiesto dal consorzio a titolo di miglioramento fondiario. Nel ricorso l'avvocato Araca ha evidenziato come questi tributi risultassero nulli poiché gli immobili non hanno mai usufruito di alcun vantaggio dal consorzio di bonifica pur essendo inclusi nel comprensorio del consorzio di bonifica Messina 11. E c'è di più, il legale ha depositato anche una memoria da dove si evinceva che il consorzio di bonifica per il 2014 avesse comunicato ai comuni di Alcalalifusi e Militello Rosmarino lo sgravio delle somme scritte a ruolo relativa ai proprietari di terreni dei due comuni. La Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha accolto il ricorso perché il consorzio non ha indicato quali miglioramenti fondiari siano stati apportati ai terreni dei due comuni montani, non dimenticando gli sgravi disposti per il 2014 e per il 2013. Ricorso accolto e condanna del consorzio al pagamento delle spese di giudizio. Lo stesso principio è alla base di altri 23 ricorsi riguardanti sempre i mobili di Militello Rosmarino ed Alcalalifusi per contributi richiesti per il 2013. Infatti anche in questo caso i ricorsi sono stati accolti perché non sono stati indicati i terreni a cui fa riferimento il tributo preteso dal consorzio, non dimenticando che i ricorrenti, rappresentati sempre dall'avvocato Antonino Araca, hanno eccepito che il consorzio non ha avviato alcuna opera che abbia determinato vantaggi per i loro terreni. Infine una diffida che è stata formalizzata sempre dallo stesso legale che rappresenta un proprietario terriero di San Marco d'Alunzio e diretta al consorzio di bonifica 11 di Messina. Ha chiesto l'annullamento in autotutela del contributo ordinario di bonifica per gli anni 2016, 2017 e 2018 anche in considerazione delle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Messina.